Noi abbiamo avuto piacere di fare questa festa un po' strana, un po' improvvisata. Noi abbiamo soltanto pensato, riempiamo il parco di Palloncini, il parco perché è un posto in cui noi veniamo sempre con Emma. Chiunque voglia venire a festeggiare, ad abbracciarci, noi saremo contenti di abbracciare la nostra volta perché abbiamo sentito un sacco di affetto anche da persone che non conoscevamo, così come un affetto immenso, un sostegno immenso da chi invece conoscevamo. Però volevamo proprio che tutti i chieresi e tutti quelli che ci sono stati vicini senza che noi nemmeno lo sapessimo potessero essere qua con noi oggi a salutarci, a vedere chi siamo l'uno con l'altro, a vederci in faccia e a vedere Emma. Sono venuti in tanti, noi abbiamo fatto un evento su Facebook quindi non sapevamo bene il numero di persone, non ho idea di quante ce ne fossero ma eravamo tanti, tantissimi dell'asilo, il parco, il sindaco, i carabinieri e tantissime mamme che noi non sappiamo chi siano, nonne, nonni, i nostri amici ovviamente, la nostra famiglia, però proprio tante persone di cui io non conoscevo il viso ma che hanno voluto essere qua e ringraziare per Emma e abbracciarci, quindi è stato veramente molto bello. Noi siamo stati due mesi in tutto in ospedale, nelle prime settimane Emma è stata in coma e le sue condizioni sono state definite più che critiche, insomma non era nemmeno detto che si potesse svegliare e si parlava di danni cerebrali gravissimi perché comunque lei ha perso una parte del cervello, ha avuto tantissime emorragie, insomma non era né probabile né sembrava neanche possibile che lei potesse riprendersi e poi invece ha cominciato a svegliarsi, ha ricominciato a parlare, a sorridere, si ricordava tutto, adesso ha ricominciato a camminare, quindi nonostante tanti tanti strascichi che ci portiamo dietro, però Emma è ancora Emma come abbiamo detto e come sentiamo.